Fratelli e sorelle Bianconeri, stamattina è arrivata la triste notizia della morte di Nadia Toffa, la iena Nadia Toffa. Di fronte a queste notizie ragazzi non c'è niente da dire, bisogna solo fare silenzio, rispettare e dare un ciao a Nadia. E penso di parlare a nome di tutti dicendo che Nadia ci mancherai, ci mancherai a tutti noi, sei stata una leonessa, una leonessa, una guerriera, hai lottato fino all'ultimo, non c'è niente da dire, stiamo solo in silenzio e ti diamo un bacio. Ciao Nadia, ciao, ciao, ciao.